Brava, non era un gruppo militare, era una banda, comandata da un bandito. Dove poteva andare, Genova era solo un posto che conoscevo. Non c'era, non c'era un paese. I have to know what you think about. I didn't come to you, you came to me. Non solo, eh. Io sono venuto qua, ma tu mi hai parlato. Tu potevi stare zitto, ma tu mi hai parlato. Adesso la nuova Italia è passata dalle mani di Michelin alle mani. Se non hai una fantasia, se non guarda l'interno di quello che hai, se non guarda l'interno di quello che hai. Non c'era un'interno di quello che hai. Non c'era un'interno di quello che hai. Non c'era un'interno di quello che hai.